Una forfiesta parcheggiata In piazza Vittorio Veneto a Castellamonte Si è incendiata nella mattinata del lunedì 17 febbraio Poco prima delle 9.30 Sul posto sono prontamente intervenuti I vigili del fuoco di Ivrea, la polizia locale I carabinieri del nucleo radiomobile di Ivrea Il tratto stradale di via Costantino Nigra È stato chiuso al traffico Non solo per permettere l'operazione di spegnimento Ma anche per sicurezza In quanto la vettura era dotata di impianto gas Nonostante il pronto intervento L'auto ha subito ingenti danni Quando è divampato l'incendio La proprietaria si era appena allontanata Dopo aver parcheggiato Fortunatamente le fiamme non hanno intaccato altre auto Il raffrovi è importante Il raffrovi è stato chiuso al traffico Il raffrovi è stato chiuso al traffico Grazie all'ultima Il raffrovi è stato chiuso al traffico Quello che si è accolato Il raffrovi è stata chiuso al traffico Grazie a tutti.